Gran parte della vasta area dell'ex ospedale psichiatrico di circa 20 ettari sarà utilizzata per la costruzione di una casa dello studente. Questa è la proposta del sindaco Massimo Cialente a Cassa Depositi e Prestiti, i cui rappresentanti la scorsa settimana hanno già effettuato un sopralluogo delle strutture di Collemaggio. Il progetto è inquadrato nell'housing sociale che la società governativa sta portando avanti. Si tratta di un'area con 17 edifici, alcuni dei quali vincolati, che potrebbe ospidare uno stedentato da 300-400 posti letto, inserito in un polo a servizi con altri edifici a destinazione pubblica, quale un palazzo della città per le associazioni e il museo della mente, spiega il primo cittadino. Vedremo chi gestirà la struttura, se l'azienda per il diritto allo studio o altri soggetti. In seguito al sopralluogo attendiamo di sapere cosa ci diranno i delegati di Cassa Depositi e Prestiti. Sempre la cassa potrebbe entrare in scena anche per la riqualificazione dell'ex scola Guglielmo Le Reis Romuli, un'altra struttura necessaria al di fuori di qualsiasi speculazione, spiega Cialente. Anche lì potremmo fare un intervento pubblico per rendere la struttura un luogo di ricerca e alta formazione con l'attivazione di start-up. Accanto a questi progetti si colloca infatti il piano del campus medio. Dovrà essere realizzato al posto degli edifici dell'ex carcere Milorile e dell'ex caserma Rossi di Smessa. Vi sorgerà anche un Civic Center, mentre gli studenti delle scuole medie di primo e secondo grado potranno vivere il luogo anche al di fuori delle attività scolastiche.